Ragona deve immediatamente rassegnare le dimissioni e oltre che venire a riferire immediatamente anche in commissione insieme al vice sindaco. Poche ore dopo il deragliamento del tram alla guizza le opposizioni alzano la voce, chiedono le dimissioni immediate del presidente di Bus Italia, l'azienda di trasporto pubblico Andrea Ragona e che lo stesso Ragona e il vice sindaco Arturo Lorenzoni riferiscano in commissione consigliare sulla situazione della sicurezza nei trasporti pubblici, specie per quanto riguarda il tram con relative manutenzioni. La pericolosità del mezzo sta mettendo a repentaglio la vita dei padovani, un buon amministratore pubblico al di là della viabilità, al di là dell'ambiente dovrebbe garantire la sicurezza pubblica dei cittadini che oggi è costantemente messa a repentaglio. L'opposizione chiede di rivedere i progetti per le linee 2 e 3, di rivolgersi al ministero perché elimini dal bando la monorotaia e permetta di puntare sui bus elettrici e in mancanza di garanzie sulla sicurezza sospendere i bandi e i progetti. Sono mesi e mesi che ribadiamo questo, lo ribadiamo noi, lo ribadiscono i cittadini e i comitati. È ora di finirla con questa scelta senza logica, senza un senso di voler perseverare su un tram che è un rigurgito del passato secolo. Il vice sindaco deve fermare questo scempio, lo può fare. La minoranza chiede anche un referendum consultivo tra i cittadini e invita i parlamentari padovani a coinvolgere il ministro per le infrastrutture Toninelli. Chiediamo urgenza, anche io avevo dichiarato in consiglio comunale che anche il ministro Toninelli si faccia carico di questa ormai obsoleta anche scelta dell'amministrazione Giordani. La preoccupazione della minoranza è anche legata alla linea 3 che dovrebbe essere realizzata a Volta Barozzo dove le vie sono strette e il tram passerà a pochi metri dalle case. Cosa accadrebbe alle abitazioni, ai giardini e agli abitanti con un deragliamento come questo si domandano.